I piloti che avranno il privilegio di iniziare con Alfa Romeo sulle piste della Formula 1. Signori e signori, Marcus Ericsson e Charles Leclerc. Sono molto felice di fare questo e che ora sono in Monaco in Formula 1 e che si può vedere questo. Sì Sì 20 drivers, 21 racers, there can only be one world champion. Welcome along to Formula One, the world championship in 2018. Sì 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 Sì! Sì! Sì, sì, sì! Sì! Sì, 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 sì! Sì! Sì, 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 sì! Ha, ho, ho! Sì, sì, sì! Sì Tremendous performance from Charles Leclerc That is absolutely sensational Salva into Q3 Q3 Peter Woohoo! Oh yes! Put it inside Gonna get so much faster Gonna get so much stronger Gonna fire my eyes and put it inside Gonna get so much better Gonna get so much better Excellent race, Salva Excellent race P7 P7 Yes! It's like a win for us Well, best of the race A really great Great race from here, Salva P9 Ron Cariahan One day He told me And wrote Thank you Speaking about your 12 launch This is an harmony That none of the athlete will know è stato un sogno che ho lavorato molto duro e ho cominciato a correre per questo momento è stato un po' più early nella mia carriera Formula 1 mi sento assolutamente fantastico e ho cominciato a cominciare questo challenge è stato un po' più grande è stato un po' più grande